Hello Leute, un willkommen zurück bei Football Manager Trans20 mit dem Beileverkusen In questo video vedremo il trittico di partite contro Lugano, Stoccardi e Schalke 04 Ovviamente prima di andare a vedere le formazioni e le partite Vi do il mio benvenuto, il mio bentornati nella casa del calcio Dove l'unica fede calcistica che vi è è quella verso il calcio stesso Inoltre vi ricordo di seguire i miei progetti podcast Vado a dire storie di calcio e volti nuovi che potete trovare su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e SunCloud E seguitemi anche su TikTok perché vi metto quelle piccole pillole di calcio Per le quali sarebbe un po' inutile magari fare un video un po' più lungo Ovviamente la partita con Lugano è molto importante perché nello scorso episodio abbiamo pareggiato 1-1 contro lo Slovan Bratislava Abbiamo mantenuto il più 5 in classifica ma questa è assolutamente la vincere Vincendo ci assicureremo la qualificazione alla prossima fase di Europa League Ovviamente questa formazione è un misto da titolari e riserve Quindi sarà composta da Perin, Yankouto, Ta, Incapié, Backer, Demirbay, Amiri, Kiergård, Poligno, Schick e Lozek Un Schick che si è lamentato e mi ha detto voglio giocare di più Ecco ti metto in campo e spero che tu faccia bene Ora però vediamo la formazione del Lugano Che si schiera con Saipi, Arigoni, Mai, D'Aprela, Steffen, Dumbia, Sabatini, Aliseda, Bottani, Zellar e Amura Lozek cerca lo scambio con Schick però il Lugano dipende dal possesso del pallone Steffen che si arriva sulla sinistra per Zellar Vi ricordo anche che è un periodo molto negativo per gli attaccanti E assolutamente dobbiamo ritrovare la nostra forma offensiva Perché senza i loro gol la distanza che si percorre è molto 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 breve Intanto Jankouto che recupera il pallone ma lo butti in avanti E Arigoni anticipa Lozek Dumbia, Vieto per Mai, Lukasz Mai, ex Bayern Monaco Potrebbe essere un profilo interessante a riportare in Germania Arigoni, Arigoni in mezzo per Celar Ma Jankouto sbaglia Ma ragazzi ma boh non so che sta succedendo ultimamente Angolo per noi Amiri in mezzo per Lozek ed è rigorino Fallo di Daprelat o di Arigoni è rigorino E vediamo chi lo tira Lozek perché non c'è Tapsobo il nostro Mr.16 in rigore e in freddezza Vediamo Lozek, tira ed è gol Finalmente abbiamo sbloccato la partita Dopo che abbiamo tirato un casino di volte in porta Però il risultato è ancora 1-0 Io non so onestamente, con questi numeri 1-0 su rigore Boh vabbè che Saipi ha preso 7 Però insomma c'è da fare assolutamente meglio in fase offensiva Eppure io ho messo anche l'allenamento nella fase offensiva Quindi boh non lo so Vedrò Backer per Kiergort Kiergort ancora per Backer Backer per Paoligno Paoligno palla lunga e larga per Lozek Respinge Arigoni Palla ancora a Lozek Dopo che un compagno gli ha riservita lunga Backer Backer sul fondo C'è Calcross Uscito malerrimo Amiri Amiri dietro per Ta Ta per Demir Bai Demir Bai ancora per Ta Amiri Vai giochiamo ragazzi Allora Young Couto Young Couto Tipo Young signorino Young Couto in mezzo per Lozek Ed è doppietta per Adam Lozek Allora Couto non azzecca I passaggi destro Ma zecca I cross da tre quarti di sinistro Che è veramente È un mistero quest'uomo And it's time for subs Quindi andiamo a vedere un pochino Chi possiamo fare Allora assolutamente Metto Frimpong E metto E tolgo Backer E metto Chi Gurra Duat Vai Torniamo a far giocare Questo giovine giocatore Come terzino Però sposto Frimpong A sinistra Io quasi quasi Per le prossime partite Vorrei mettere Gli esterni difensivi Non come fluidificante a sostegno Ma come terzini A supporto Voglio vedere perché Ultimamente sulle fasce Stiamo veramente tanto soffrendo Comunque poi Vedrò Non è il momento di pensarci ora Poi Tolgo Paolinho E metto il Diz Faccio giocare un po' Il giovane ex Juventus E per ora andiamo così It's time for other subs Quindi facciamo così La metto Schick al posto di Lozek Tolgo No Lozek non può Deve essere tolto Che ho fatto l'oppietta Allora tolgo Schick E metto dentro Dainzer E Faccio giocare Eze Sì per forza Metto Eze al posto di Ta 2-0 Un gol su rigore Un gol su azione 22 tiri 10 tiri in porta Loro 7 tiri Un in porta Allora questa partita Mi ricorda Quella contro il Darmstadt forse Non mi ricordo Dell'ultimo episodio Che avevamo tirato Un bordello Ma Niente O forse contro il Wolfsburg Non mi ricordo Che Finizzazione veramente Bassa bassa Ma avevamo tirato Un casino Manteniamo sempre Il morale alto E ora vediamo Un attimo La classifica Sì Ci siamo qualificati Ovviamente Perché ha vinto Anche lo Sovan Liberek Scusate Lo Sovan Batislava Quindi manteniamo I 5 punti A una giornata Dal termine Bene così Quindi Prossima partita Contro il Paxalonico Tutte riserve Perini Flimpong Tatap Soba Bakker Demir Bai Palazzo Sgurnaduat Virz Schick E Diaby Questa formazione Scende in campo Contro lo Stoccarda Nuova opportunità Per Schick Io sono d'accordo A farlo giocare Deve trovare un pochino La forma che aveva Nello scorso Però Deve ritrovarla Se va ancora Le prestazioni A Berranti Questo qui A gennaio O magari A giugno prossimo Se ne va Bellamente A quel paese Ora vediamo La formazione Dello Stoccarda Stoccarda Terzultimo Ma non per questo Meno pericoloso Inoltre Conosciamo bene FM E sappiamo Le insidie Che ci pone Comunque Wimmer schiera Müller Rantol Mavropano Zagadu Wagnumann Endo Jung Amadara Karazor Fagir E Katompam Vumpa Calciagolo per noi Demir Bai In mezzo Palla di spinta Dalla difesa Ma Sopravviene Diaby Diaby che deve Ritrovare un pochino La forma Prova il tiro Palla nettamente fuori Jung Punizione per loro Karazor Traversa Mamma mia Che rischio per noi Ma Wagnumann Ancora in mezzo Per Inna Branca al pallone Wagnumann Wagnumann Avanti per Tapsoba Vediamo se ripartiamo Gurnaduat Per Bakker Bakker Che si fa la fascia Sinistra Per un po' Palacios Palacios Bella palla Per Schick Ma perché è andato Di testa Questo Imbecille Bakker per Dabee Dabee Batte il portiere Dello Stoccarda Meno male Meno male Servono queste partite Per far riprendere Gli attaccanti Comunque le statistiche Sono ancora un po' Pessime Quindi vado un attimino A motivare Nello spogliatoio E andiamo avanti Jung per Silas Silas Zagadu Zagadu indietro Per Müller Mavropanos Per Endo Ancora Mavropanos Per Anton Ragazzi Dobbiamo fare il terzo Non prendere Il primo Diciamo Infatti Silas Silas in mezzo Per Fagir Fagir Ma ragazzi Che Che stiamo avendo Che Che stiamo avendo E di brutto proprio Due pali In pochi minuti Per loro Cara Zor Zagadu Mamma mia Mamma mia Che fortuna Ragazzi Io vado A parte che Is time for subs Le mie classiche subs Di Del sessantesimo Tolgo Demir Bay E metto Metto Kiergård E sposto Gurna Duat Sulla destra Madonna I nostri terzini Costantemente Ammoniti Sempre e comunque Metto Aude Previsco Un flimpong Ammonito e composto Che è un Biancouto Normale Apprensivo E poi Andiamo avanti Così No Facciamo una terza Facciamo una terza Sì Metto Paulino Al posto di Virs Ultimamente Virs un po' In calo E facciamo Le ultime subs Allora Porco mondo Allora Frimpongo Ora però devo toglierlo E metto Couto E poi metto Gurna Duat E metto Amiri E quasi quasi Io me ne vado Con un bel 4-4-2 Metto Amiri qui Parasius come Incontrista Sì Mentre Questa è equilibrata Sì voglio così Perché siamo Molto stanchi E voglio una squadra Un po' più Spalmata sul campo Non volevo eccessi Quindi niente Ma arriviamo a fine partita Vediamo E dopo il nulla Cosmico Vinciamo 1-0 Partita molto importante Perché ripeto Lo stoccare La terza Ultima Ma conosciamo bene Football Manager E soprattutto In queste partite Nelle scorse edizioni Con le piccole Perdevi Quasi sistematicamente E siamo A meno 4 Dall'Ipsia Abbiamo raggiunto Francoforte E Wolfsburg E ovviamente Sopra l'ultima Abbiamo il Bayern Monaco E poi appunto Illipsia Bene così E la prossima E ancora più importante Perché giochiamo Contro l'Hamburgo Penultimo E queste Sono le partite Da vincere Perdonatemi Sono un pirla Perché Ho miscliccato E quindi sono andato avanti Con le schermate Comunque qui Potete vedere Entrambi le formazioni Quindi Qua è lo Schalke 04 Con Kiusufo Edin Flick Griml Owejan Kraus Salazar Bozdogan Wedraogo Mor e Polter Contro la nostra Per Inflimpong Ta in capì Aude Amiri Demirbay Grunaduat Poligno Lozek E Colombo Demirbay In mezzo Per Lozek Lozek Scatta sulla sinistra Per Ta Ta per Grunaduat Non riescono a uscire loro Demirbay Per Amiri Amiri Palla lunga Per Lozek E al volo Mamma mia Che gol Che ha fatto Lozek Arbitro Se me lo annulli No eh No Non è annullato Voglio rivederlo Lozek ha fatto un gol Spettacolare Al volo di destro Boom Che volè Aude Per Grunaduat Aude gioca perché È squalificato Bacchere In capì E in capì Gioca al posto di Tapsoba Perché Tapsoba Bisogno di riposo Ma ancora Lozek Mamma mia Che ero difensivo E rigorino E rigorino Netto fallo di Flick Che aggancia Da dietro Lozek E per l'ennesima volta Non c'è Tapsoba Tutte le volte Che c'è un rigore Tapsoba Non è mai In campo Chi tirerà Sicuramente Lozek E un destro Ha tirato l'ultima volta Lozek E presumo Chi sia Lozek Infatti È proprio lui Vediamo se andrà Per la doppietta E vai E Lozek Anche lui Che stiamo adattando In quel ruolo Di punta completa Sta facendo Veramente Benissimo Yusufa Rindio Per Greml Krauss Per Bosdogan Per Owejan Ancora per Bosdogan Mor Emre Mor Dovebbe essere No non è Emre Mor Quello è M-O-R Vabbè Comunque Mor ancora per Polter Polter per Krauss Krauss tenta il cambio di campo Per Salazar Ma interveniamo noi Chi chiudiamo lo spazio Lozek Peccato Era per Poligno Quel pallone Aedin Per Quello Krauss ancora Per Salazar Ma noi Triplichiamo addirittura Demir Bay Per Colombo E il Teneo Perché si è mangiato Colombo E statistiche Nettamente Superiori A noi Quindi dobbiamo Semplicemente Nello spogliatoio Stringere i pugni Possiamo fare meglio E via Aude Per Lozek Lozek Diciamo che Difende palla Bel tiro Ma Yusuf Para And now It's time for subs Quindi andiamo a vedere Chi possiamo togliere Allora tolgo Colombo Che sta facendo malino Anche lui In piccola flessione Mettiamo Schick Poi Chi possiamo togliere Paoligno Che sta facendo malino Mettiamo Virz Eze Aspetto ancora Qualchi minutini Per farlo entrare Al posto di incapie E farli fare Qualche minuto ancora E niente ragazzi Andiamo così And it's time for Last subs Quindi Torniamo In tattiche Allora Togliamo in capie E metto Eze Poi Togliamo Aude Sì Però bene Non abbiamo terzini Mettiamo Chirgord Lo adattiamo lì Per questa partitina E tolgo Demir Bay E metto Palacios Così insomma Cerchiamo di fare Questi ultimi 10-12 minuti Uno Schalke Annichilito Nel primo tempo Ovviamente Perde la partita Avete Le statistiche Tiri Trici a 4 Importa 7 contro 0 Per loro XG Nettamente Superiore Il nostro E questo dato È molto Allegriano No Il possesso Palla Noi concediamo 37% A noi Se stanno Tra loro Abbiamo addirittura Sbagliato Un ben 8% In meno Di passaggi Nella precisione Insomma Non benissimo Ma abbiamo qualità E abbiamo quindi Vinto 2-0 E ora andiamo a vedere La classifica Finale Diciamo Tra virgolette Di questo episodio Andiamo a vederla E ad ora Siamo secondi A meno 2 Dall'Ipsia Ma deve giocare Ancora Il Bayern Di Monaco Quindi Aspettiamo a vedere La classifica finale E poi ci salutiamo Sorpresone Delle sorpresone Il Bayern Monaco Perde In casa Contro L'Hamburgo Penultimo Quindi Noi siamo Ufficialmente secondi A parimento Col Francoforte Però ragazzi Ancora adesso La classifica È comunque Corta Perché comunque Sono 8 punti Tra il primo E l'ottavo Ragazzi Ripeto Che più continuo Vince Ci saranno ovviamente Meno partite Perché in totale Ne saranno 34 Perché comunque In Germania Vi sono soltanto 18 squadre Non 20 Però ragazzi Continuiamo così Perché in proiezione Potremmo fare veramente Un campionato Al bacio Ovviamente Aspetta Prima di salutarci Andiamo a calendario E Nel prossimo episodio Vediamo le partite Contro Pauk Union Berlino E Colonia E soprattutto Le partite contro Union Berlino E Colonia Sono le ultime due Del girone di andata Perché se vi ricordate bene La carriera è partita O meglio Studate Questa stagione Con Leverkusen Iniziata appunto Con il match Contro il Bayern Di Monaco Ovviamente Fatemi sapere Sotto nei commenti Cosa pensate E ditemi tranquillamente La vostra Perché i commenti Leggo tutti Vi mando un abbraccione E ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi